Carzita è il volto del cartello, ma è il suo assistente che tiene in piedi il resort. Uccidetelo e obbligheremo Carzita a farsi vedere. Vedo un bersaglio, ci sono molti civili vicini. Bersaglio acquisito, in attesa. Preso. Elicottero unitato di Fattucia, occhio. Giù, a terra, elicottero. Versagli marcati, in attesa. Ho il bersaglio. Ho il nemico. È andato. Ok, a posto. Elicottero unitato di Fattucia, occhio. Vedo un altro bersaglio. Versaglio numero tre. Ecco il bersaglio numero cinque. Vedo un cecchino. Vedo l'assistente di Carzita. Pronti per l'assistente di Carzita. Non fate troppo casino, ma accertatevi che sia morto. In posizione. Bersaglio. Bersaglio marcati. Aspetta l'ordine. Bersaglio. Quello è fottuto. Calma, va tutto bene. Benissimo. Bersagli segnati, pronto all'assalto Ho il bersaglio Ok, bersaglio marcato Angaggio, bersaglio a terra Ok, a posto C'è un sicario armato di mitra Ditemi dove Nei pressi della torretta Bersagli marcati, aspetto l'ordine Ho il nemico Bersaglio acquisito Pronto ad andare Attacco il nemico Un cattivo in meno Guardate, una cassa d'armi Ehi, c'è un arco armato con un mitra Dove c'è quella trincea L'assistente è morto Ripeto, l'assistente è morto Non ci vorrà molto perché Carzetta si occupi di persona dei suoi affari Ah, mi fa comodo Dove c'è l'assistente è morto Non ci vorrà molto Avicato Grazie all'assistente